Do il mio più caloroso benvenuto innanzitutto al professor Stefano Zamagne che è collegato con noi, benvenuto professore, e al nostro Marcus Krinke che ci coadiuva in qualità anche di membro dell'osservatore democratico del comitato in questo ciclo dedicato all'economia e all'ambiente. Terzo webinar con il professor Zamagne appunto di un cammino che è quello di tre anni che abbiamo previsto, quest'anno dedicato alle nuove economie, dopo il professor Luigi Gino Bruni su anche l'economia di Francesco e il professor Stel sull'economia circolare e la performance economy, questa sera abbiamo il piacere di ospitare il professor Zamagne con il tema economia civile e nuove sfide ambientali. Ricordo che questo seminario è il frutto della collaborazione, della larga collaborazione tra una decina di osservazioni che vorrei ricordare qui in entrata, è l'APSI, quindi l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, le ACLI del Canton Ticino, Alliance Sud, Comunità di Lavoro, Caritas Ticino, la Cattedra Rosmini, Azione Cattolica, il Centro Culturale e l'Incontro, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, il Sacrificio Quaresimale, l'UCIT, l'Unione Cristiana Imprenditori Ticinesi, le Ponzia Cantonale che è l'Associazione degli Studenti e dei Professionisti Cattolici Ticinesi e abbiamo il piacere di avere qua le media partner, il giornale online L'Osservatore. Direi di dirare la parola a Marcus Krinke che presenterà il Prof. Zamagni e poi presenterà anche questo seminario in particolare. Grazie mille e a te la parola, Marcus. Grazie, grazie Alessandro, Presidente della nostra associazione Osservatore Democratico. Anche da parte mia un coloroso benvenuto stasera al Prof. Zamagni che è con noi, è un grande eseguo questo nostro appunto terzo webinar, serie di webinar dal titolo Nuove forme di economia e sfide ambientali, pensato come ciclo di conferenze già alla fine dell'anno scorso per quest'anno e adesso con la crisi pandemica del Covid ha acquisito evidentemente una nuova attualità. In qualche modo si è ancora rafforzato, si è ancora intensificato le questioni che poniamo ai nostri relatori e dopo appunto Luigi Bruni e Walter Stahel stasera poniamo le domande anche al Prof. Zamagni. Prof. Zamagni che ha sviluppato già da molti decenni il concetto dell'economia civile. Penso che molti che si sono legati stasera possono identificare qualcosa con questo termine dell'economia civile e mi ricordo ancora che se pensiamo da questa crisi indietro alla scorsa crisi il Prof. Zamagni aveva già interpretato la scorsa crisi non come crisi dialettica ma come crisi entropica. Adesso ho con noi qui il Prof. Zamagni quindi mi può anche correggere direttamente se lo cito correttamente e definiva una crisi dialettica le crisi di un sistema economico che possono sempre accadere ma nel risolverle un sistema si riautoafferma e casomai ne esce anche rafforzato dalla crisi. Una crisi entropica invece sarebbe una crisi che metterebbe allo scoperto delle disfunzionalità particolari di un sistema economico per cui sarebbe praticamente impossibile che il sistema stesso esce dalla crisi rafforzato anzi sarebbe una crisi che rischia anche in qualche modo a se non far proprio fallire un sistema economico ma almeno scopre talmente tanto le proprie in qualche modo contraddizioni o antinomie intrinseche che sarebbe urgente e in qualche modo non più rinvenibile un ripensamento fondamentale dello stesso sistema economico. Come siamo usciti dall'ultima crisi? Fondamentalmente secondo me continuando così come avevamo fatto prima dopo il 2007-2008 che sappiamo in Italia aveva anche una seconda ondata nel 2011 si è cercato di mettere nei mercati ingenti somme per farlo rifunzionare e per farlo tornare a funzionare in qualche modo anche meglio di prima. Sappiamo che in Italia non siamo riusciti così tanto a farlo funzionare meglio di prima ma in altre parti del mondo senz'altro di sì. Adesso ci affrontiamo di nuovo una crisi e se vogliamo aver imparato dalla scorsa crisi dobbiamo riporci secondo me la stessa domanda la domanda che il professor Damani aveva posto già dopo il 2007-2008 ossia che cosa dobbiamo concretamente ripensare dal nostro modo di fare economia del nostro sistema economico e questo perché abbiamo parlato molto in questi giorni della tecnica, della strategia di flattening the curve si dice ossia che il Covid ha fatto la curva e schizzato in alto e attraverso delle tecniche si cerca appunto di abbassare la curva in modo tale di tenerla bassa così diventa più lunga ma in qualche modo i nostri modi di reagire a questo diventano più sostenibili e riusciamo in qualche modo a affrontarla. Se l'ambiente e l'impatto che la nostra economia ha sull'ambiente la vogliamo pensare in qualche modo anche in una curva e sappiamo che proprio negli ultimi anni la curva dei danni ambientali che abbiamo creato con il nostro sistema economico sono schizzati in alto se vogliamo cercare anche di flattening the curve in senso ambientale ossia di evitare una catastrofe futura magari per quanto riguardano le conseguenze ambientali del nostro modo di fare economia allora dobbiamo ripensare adesso qualche parametro perché una crisi ambientale sappiamo che non sarà così facilmente risolvibile come le crisi economiche se determinati parametri ambientali oltrepassano un determinato valore non è così facile poi più tornare indietro se pensiamo anche che in altre occasioni e negli altri webinar abbiamo anche accennato al fatto come l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco dell'2015 afferma proprio adesso una sua in qualche modo straordinaria attualità per averci ricordato che il modo di fare economia deve essere sostenibile non soltanto in senso economico e sociale ma anche in senso ambientale se pensiamo all'ultima crisi e soprattutto anche alle riflessioni che il professor Zalmani aveva fatta in merito ci trova veramente un'altra enciclica ossia l'enciclica Caritas in Meritate perché già l'enciclica Caritas in Meritate aveva riflettuto in modo critico di alcuni meccanismi di un'economia basata soltanto su un modello dell'homo economicus e della concorrenza basandosi sul mero scambio di equivalenti già il professor Zalmani e poi l'enciclica Caritas in Meritate rifacendosi alla scuola specialmente napoletana dell'illuminismo settecentesco pensiamo a genovesi, filangeri ed altri avevano proposto un modello diverso di pensare l'economia l'economia attraverso la reciprocità quindi di sostituire semplicemente il paradigma dello scambio di equivalenti con l'idea della reciprocità una reciprocità che si apre a una dimensione sociale e questo modello ha determinati vantaggi adesso tutto quello che dico ovviamente in qualche modo è una parafrasi di alcuni elementi, di pochi elementi che vorrei ricordare un po' di una prospettiva dove potremmo collocare magari alcuni pensieri del professor Zalmani almeno nella misura in cui credo di averle comprese e c'è una bella citazione di Filangeri stesso che lui diceva le ricchezze esorbitanti di alcuni cittadini e l'ozio di alcuni altri suppongono l'infelicità e la miseria della maggior parte questa parzialità civile è contraria al bene pubblico uno Stato non si può dire ricco e felice che in un solo caso allorché ogni cittadino con un lavoro discreto di alcune ore può comodamente supplire ai suoi bisogni e da quelli della sua famiglia quindi l'idea che l'economia senz'altro deve produrre ricchezza ma deve produrre una ricchezza che si inserisce in una dimensione civile in una dimensione relazionale di pensare alla società e come sappiamo questa relazionalità appunto deve aprirsi anche alla sua dimensione ecologica in questo modo deve essere evitato di produrre quelli che Papa Francesco chiama anche spesso gli scarti gli scarti a livello sociale ma anche gli scarti a livello economico di trovare più modelli inclusivi di trovare più una dinamica inclusiva perché se parliamo specialmente anche di risorse e se come risorse non pensiamo soltanto alle risorse che possiamo estrarre dalla natura e poi lasciare gli scarti in qualche modo da qualche parte nella stessa natura ma se come abbiamo anche già visto nella scorsa volta con il professor Stahel dobbiamo ripensare profondamente questi modi di produrre, di consumare di produrre in un certo senso certamente anche profitto dobbiamo sostituire l'idea di una semplice scarsità di bene con l'idea della limitatezza è la limitatezza che ci mette in una comunità di persone e che ci rende in qualche modo consapevole del fatto che dobbiamo inserirci oltre nella socialità in qualcosa di più ampio che è l'ambiente che è la creazione in quanto tale scarsità significerebbe semplicemente sempre più ottimizzare e un po' anche l'illusione di poter superare attraverso l'ottimizzazione la stessa limitatezza che però è una nostra condizione creaturale vediamo come con un approccio alternativo un po' all'economia riusciamo veramente a portare la persona, la persona reale dentro i processi la persona nella sua relazionalità, la persona anche nella sua attenzione all'altro e non semplicemente dei meccanismi in qualche modo quando parliamo di un'economia astratta di un'economia che viaggia soltanto sull'idea di calcoli matematici e di ottimizzazione in questo senso con Genovesi certamente torna l'idea della socievolezza della naturale socievolezza tra gli uomini al centro a sostituire l'idea di una concorrenza a tutti i costi appunto e questa naturale socievolezza con Vico presuppone una risorsa sociale che si chiama la fiducia, la fede pubblica l'idea di realizzare insieme delle virtù anche nella virtù, guardate, non si tratta così tanto dell'idea individualistica come fu in qualche modo, come fu declinata soprattutto nel 1700 di eccellere dell'individuo sopra gli altri ma di raggiungere una finalità, di raggiungere un bene insieme e questo ci fa ripensare anche il modo di fare impresa perché l'impresa stessa deve essere ripensata come una forma di socialità una forma di relazionalità e in questo senso è interessante vedere come non soltanto quella carità sinveritate viene tematizzato per la prima volta nella storia della dottrina sociale della Chiesa l'ambiente, poi ripreso dal lato così ma anche il fatto dell'impresa l'impresa non è mai stato un oggetto particolare delle encicliche sociali prima della stessa carità sinveritate e se vediamo come l'ha laudato Siddich che è l'impresa radicata nel suo territorio e quel momento, come abbiamo letto la scorsa volta insieme presentandolo ci sono Stahel attraverso il quale si catalizzano le forze di un territorio affinché un territorio possa uscire dalla miseria e dalla crisi allora vediamo come il modo intero di ripensare l'economia e l'impresa possa essere una nuova chiave non soltanto per tornare dopo questa crisi del Covid che alla fine è una crisi globale più forte di prima come dicono i soliti slogan ma meglio di prima in qualche modo più sostenibile di prima così vorrei semplicemente chiudere per non togliere anche troppo tempo ovviamente al professor Zamagni anzi non gli tolgo troppo tempo perché lui ha il tempo a sua disposizione ma di non farvi troppo aspettare le spiegazioni del professor Zamagni con una frase della Caritas Inmeritate dove leggiamo che l'economia ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento non di un'etica qualsiasi pensi di un'etica amica della persona in questo senso con questa frase vorrei anche dare la parola al professor Zamagni e chiedergli concretamente ciò che gli chiede già il titolo di fare per noi di dare un po' le sue prospettive per un ripensamento dell'economia nell'attuale situazione di fronte a una crisi sociale, ambientale, economica che stiamo attraversando e quale prospettive ci può dare per guardare anche in maniera positiva nel futuro perché il compito del cristiano e di uno che si impegna dell'etica e dell'economia di dare gli strumenti giusti per poter guardare con ottimismo nel futuro perché solo così possiamo anche costruire qualcosa prego professor Zamagni a lei la parola grazie a volte grazie a Marcus e grazie a Alessandro per l'invito che mi avete rivolto e che ho accolto con vero piacere e complimenti per l'attività che la vostra associazione osservatorio democratico va svolgendo penso che facciate veramente un lavoro importante soprattutto in questa fase storica che ci vede impegnati su diversi fronti entro allora nel merito del tema che mi è stato assegnato prendendo le mosse da questa constatazione che se c'erano dubbi che la questione ambientale fosse tutto sommato una questione di secondaria rilevanza la pandemia da Covid-19 ha fugato ogni dubbio perché mai come in questo momento in questi ultimi mesi nel mondo intero ma soprattutto nel mondo occidentale è diventato chiaro il nesso che esiste tra ambiente o variazioni deterioramento dell'ambiente naturale e fenomeni come questo della pandemia voi sapete che un libro molto importante pubblicato l'anno scorso e ora in seconda edizione per gli aggiornamenti necessari da Snowden che è uno studioso americano uno famoso storico americano intitolato Pandemics and Society e traccia la storia degli ultimi mille anni in cui descrive nel libro come le diverse pandemie che hanno avuto nel corso del tempo nomi diversi siano associabili a determinate cause generatrici quella di oggi la pandemia da Covid-19 è associabile al deterioramento ambientale la deforestazione da un lato il particolato dell'aria sostanzialmente il CO2 e il CF4 che è nell'ambiente hanno avuto e stanno avendo delle conseguenze notevoli perché il virus di cui stiamo parlando è legato alla deforestazione che una volta abbattute le foreste questi virus emigrano si trasmigrano negli animali selvatici come i pipistrelli e altri e da questi poi si trasferiscono all'uomo così come il particolato dell'aria in altre parole l'inquinamento atmosferico ha un effetto immediato sugli alveoli polmonari e questo spiega ad esempio perché in Italia la Lombardia e Milano siano state le aree più maggiormente affected si dice in inglese come mai? perché quelle sono aree dove l'inquinamento ha raggiunto livelli più alti che altrove come mai nel sud Italia i casi sono stati molto pochi e soprattutto non si sono espanse e le ragioni sono legate alle condizioni poi ci sono altri fattori che sia ben chiaro però questo è uno dei fattori importanti secondo punto il concetto di sviluppo sostenibile o se vogliamo sostenibilità nasce storicamente nel 1793 è bene che ci ricordiamo di queste cose perché nessuno ne parla mai e dove? in Germania Von Karlewitz era il delegato per Oprussiano del mantenimento dell'equilibrio forestale lui era incaricato di stabilire quali erano i numeri ottimali di alberi da abbattere da cui estrarre il legname per il riscaldamento e per la produzione ebbene nel 1793 scrive una memoria in cui dice bisogna non essere avidi e cioè abbattere quest'anno il numero massimo possibile perché in questo modo metteremo a repentaglio il futuro ed è in quel contesto che cogna lui cogna la parola sostenibilità bisogna che la gestione delle foreste sia sostenibile poi bisogna fare un passo in avanti perché 1793 capite da soli cosa questo significava in pratica nessuno pensava in quei termini bisogna poi arrivare al 1980 al Club di Roma poi al rapporto Brundland e via discorrendo e arriviamo ai giorni nostri allora la domanda che sorge spontanea è questa come mai la scienza economica nel suo complesso non si è mai occupata salvo rare eccezioni della tematica ambientale questa è la domanda delle domande e se voi la fate agli economisti questi si arrabbiano non dico che si offendono ma si arrabbiano perché dà loro fastidio perché come adesso dirò tra un minuto se oggi noi soffriamo i problemi che soffriamo buona parte della responsabilità probabilmente fatta in buona fede è degli economisti e bisogna avere il coraggio di dirlo anche se questo è considerato impolitico o non conveniente ma la verità bisogna imparare a dirla e adesso spiego ho detto ci sono state eccezioni eccezioni pensate a Malthus l'economista inglese dell'inizio ottocento sapete subito più o meno quello che scrive Malthus sulla teoria della popolazione in tempi più vicini a noi un altro economista rumeno d'origine ma naturalizzato americano che si chiamava Georgescu Reagan e che venne allora Georgescu Reagan scompare all'inizio degli anni 90 quindi oltre 25 anni fa veniva addirittura deriso dalla professione lui era professore all'università di Vanderbilt negli Stati Uniti e i suoi primi lavori quello in particolare del 1960 già allora diceva attenzione perché la scienza economica è si muove su un territorio un terreno sbagliato bisogna che venga corretta nei suoi fondamenti se si vuole evitare quello che oggi noi tocchiamo tutti con mano ed è in quel contesto che Georgescu Reagan cogna la parola bioeconomia la parola bioeconomia nasce con lui eccetera ma se si fa eccezione di questi gli altri nomi la disciplina nel suo complesso la disciplina economica non ha mai ritenuto di sporcarsi le mani con la tematica ambientale e vi do un ultimo dato che conferma questo l'anno scorso nel novembre dell'anno scorso in Inghilterra Nicholas Sturm della London School of Economics e Oswald un altro economista di Oxford hanno pubblicato un saggio molto interessante io mi sono complimentato con loro perché li conosco soprattutto Nicholas Sturm Nicholas Sturm è diventato anche Sir cioè membro della Camera Alta dei Lord volevo dire ebbene cosa hanno fatto questi due studiosi grandi esperti di tematica ambientale hanno calcolato il numero attenzione dei saggi scientifici pubblicati sulle dieci riviste scientifiche più importanti a livello mondiale nel corso degli ultimi vent'anni cioè dal 2000 al 2018 e hanno calcolato 3740 saggi saggi scientifici a livello mondiale sapete di questi 3740 quanti si sono occupati della tematica ambientale 55 e Stern e Oswald concludono dicendo questa è un'autentica vergogna noi economisti dovremmo vergognarci e la gente quando camminiamo dovrebbe imprecare contro di noi perché è mai possibile che su un tema così rilevante gli economisti a livello mondiale non abbiano ritenuto di dedicare attenzioni alla problematica in questione e siccome come sappiamo l'influenza sui policy makers sui governi sui politici degli economisti è notevolissima perché è ovvio che su queste tematiche di natura socio-economica il pensiero degli economisti è dominante così come in questa vicenda della pandemia il pensiero e l'opinione degli scienziati medici biologi epidemiologi virologi è stato ed è determinante quindi capite che se la categoria degli economisti dice nei propri saggi che il problema ambientale non è un problema che quindi si può tranquillamente pensare di crescere la teoria della crescita economica senza preoccupazioni di sorta come ricordava prima Marcus il concetto di limitatezza non doveva essere preso in considerazione qual è stata l'implicazione c'è un passaggio del discorso che Robert Solo premio Nobel dell'economia pronunciò alcuni diversi anni fa all'assemblea annuale dell'American Economic Association è pubblicato sull'American Economic Association in cui rivolgendo sei colleghi dicevo non preoccupatevi c'è qualcuno che solleva questioni di natura ambientale ma non c'è bisogno l'importante è crescere 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 perché con la crescita si risolverà anche il problema dell'inquinamento del mutamento climatico e via discorrendo eccetera ecco allora la domanda in questione come mai questo è accaduto in altre parole come è potuto accadere che un problema come quello dell'ambiente sia stato trattato come se fosse una risorsa scarsa al pari di ogni altro bene ecco perché Marcus ha fatto bene a distinguere tra limitatezza e scarsità se c'è come avviene in questo tempo c'è stato fino al mese scorso una scarsità di mascherine il meccanismo di mercato cosa fa? fa lievitare il prezzo perché lo conoscono ormai anche i bambini quando la domanda supera l'offerta il prezzo del bene in questione aumenta quindi per tanto tempo il problema ambientale è stato trattato come se fosse una risorsa scarsa e quindi l'implicazione è stata quella di dire dobbiamo fare in modo di aumentare il prezzo dell'uso delle risorse ambientali allo scopo di ridurre le emissioni di ridurre le forme di inquinamento e via discorrendo il primo autore a porre questo accento fu Pigou l'economista inglese Pigou allievo di Marshall ma quando 1920 Pigou introdusse un sistema di cosiddetti tasse sussili diceva se il governo o un'altra autorità osserva che una industria un'impresa qualsiasi inquina ad esempio emettendo fumi perché allora le fabbriche funzionavano con carbone e voi capite che le ciminiere emettevano fumi pesanti allora si dovrà tassare per ottenere con il ricavato risorse con le quali andare a sussidiare coloro i quali subiscono la conseguenza negativa dell'inquinamento per cui in questo modo concludeva Pigou si può raggiungere un equilibrio quasi pareto ottimale ma adesso non entriamo nei dettagli qual è l'ingenuità Pigou era molto bravo e intelligente d'altra parte siamo nel 1920 qual è l'ingenuità di questo ragionamento che la natura non c'entra niente con i governi perché se il governo fa pagare la tassa all'inquinatore non è che quei soldi vanno alla natura vanno al governo e se il governo con quei soldi rimborsa colori quali sono stati danneggiati non è che la natura si metta a posto non è che l'aria torni a essere pulita eppure intere generazioni degli economisti anche molto intelligenti sono caduti in questa trappola mentale che bastasse regolare e usare gli strumenti di mercato prezzi tasse e sussidi per risolvere il problema ma se io distruggo distruggo comunque una foresta poniamo è inutile che qualcuno mi faccia pagare la multa perché una volta distrutta la foresta ha bisogno di almeno altri cent'anni per rigenerarsi e così via ecco allora poi più vicino a noi e precisamente nel 1960 un altro economista importante il cui nome è Ronald Coase Coase scritto inglese poi naturalizzato americano in un contributo che tutti gli economisti del mondo conoscono a memoria interluce i cosiddetti mercati dei permessi di inquinare che è un'altra ingenuità è un perfezionamento dell'impostazione pigoviana e molti ci sono cascati cioè l'idea di Coase è questo un'autorità pubblica deve fare all'inizio dell'anno un'asta competitiva per vendere i permessi di inquinamento alle imprese che offrono di più allora io offro di più di voi quindi sono autorizzato ad inquinare ora questo teorema ha avuto un impatto non solo inefficace dal punto di vista pratico per la ragione che ho detto prima ma ha aggravato la situazione perché ha fatto credere a intere generazioni di economisti e di politici che il problema dell'ambiente fosse un problema di relazione di potere economico per cui se io sono ricco sono un imprenditore ricco io pago il prezzo offro il prezzo più alto e quindi sono autorizzato a inquinare e nessuno mi può dire niente perché ho pagato capite voi l'implicazione etica cioè quando gli economisti perdono il legame con l'etica dicono delle bestialità perché l'idea che è passata basta avere i soldi per fare quello che si vuole basta pagare più di ogni altro e poi tu sei autorizzato a fare quel che vuoi e così via sappiamo come sono andate le cose ecco allora che quando si arriva a questo punto si comincia a capire come mai siamo arrivati al punto che tutti ormai conoscono e devo dire che gli scienziati naturali fisici biologi eccetera è ovvio che hanno sempre criticato l'impostazione degli economisti è ovvio lo so per certo conoscenze dirette basta prendere poi certi documenti ma come ho detto su queste tematiche l'ultima parola ce l'hanno gli economisti perché perché vanno a dare i consigli diventano i consiglieri dei vari governi e ovviamente le grandi imprese le grandi corporations hanno un bello cattivo tempo per pagare il consenso di natura politica e questo è il caso di dirlo non si può continuare nell'ipocrisia di far finta che non sia così perché le grandi corporations americane non americane pensate al settore del petrolio evidentemente ottengono il consenso da parte dei parlamenti o dei governi di far approvare certe leggi sulla base di quanto riescono a fare di dare eccetera eccetera allora arriviamo al punto la pandemia è oggi una starei per dire una benedizione del cielo se qualcuno la sapesse interpretare correttamente perché ci obbliga finalmente a mettere a nudo la falsità e la erroneità della impostazione tradizionale della disciplina economica ecco il punto cioè oggi dopo quanto è avvenuto e accadrà tutti sanno che non è più possibile continuare con quelle finzioni menzogniere di cui ho fatto brevemente parola e voi direte ma allora qual è il punto diciamo di partenza di un discorso volto a modificare alla radice la situazione ecco allora che qui entra in campo l'altra parola che dà il titolo a questa conversazione e cioè l'economia civile e ora qui una brevissima parentesi e in chiave storica è necessaria voi sapete che in economia nella scienza economica due sono i paradigmi oggi fino a 40 anni fa erano tre ed era il terzo il paradigma marxiano ma dopo la caduta del muro di Berlino questo paradigma è uscito di scena i due paradigmi rimasti sono quelli dell'economia politica associato al nome del grande Adam Smith Scozia fine settecento e il paradigma dell'economia civile che nasce in terra d'Italia e precisamente a Napoli e poi da Napoli si porta a Milano 1753 è l'anno in cui l'università Federico II mondo di Napoli istituì la prima cattedra al mondo ho detto al mondo non in Italia al mondo di economia Adam Smith non aveva la cattedra di economia aveva la cattedra di filosofia morale e la prima cattedra al mondo di economia cattedra universitaria viene denominata cattedra di economia civile quindi l'espressione economia civile nasce nel 1753 e il primo cattedratico fu Antonio Genovesi poi le sue idee arrivano a Milano Pietro Verri e un altro Gian Domenico Romagnosi Beccaria e altri nomi che adesso non mette conto qual è il punto importante che fino alla fine del 1700 in Europa continentale il paradigma dell'economia civile era dominante in Germania in Svizzera in Spagna in Francia con sottolineatori ma quando si arriva alla fine del secolo il paradigma dell'economia politica domina e espelle e spunge dalla circolazione il paradigma dell'economia civile perché? perché l'Inghilterra era diventata la prima potenza economica e come ben sappiamo quando un paese esercita l'egemonia economica sempre 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 prima o poi finisce con l'esercitare l'egemonia culturale e così è stato quindi tutti i libri tutti gli insegnamenti e la tradizione di pensiero dell'economia civile viene dimenticata totalmente totalmente dimenticata qual è la cosa interessante che in questo ultimo quarto di secolo non solo in Italia ma soprattutto all'estero negli ambienti anglosassoni il paradigma dell'economia civile sta ritornando in superficie questo è una bella promessa e dobbiamo essere moderatamente ottimisti e una delle ragioni per cui la prospettiva di studio dell'economia civile sta riemergendo è quella che ho detto perché anche un bambino rivolgendosi all'economista politico gli dice ma tu che sei stato dominante per due secoli come mai non hai dato un contributo significativo alla questione ambientale ma voi lo sapete che non c'è neppure una teoria economica degna di questo nome che si occupi di tematiche ambientali ci sono specifici modelli ma non una teoria e allora vuol dire che quel paradigma non va bene così come non va bene per altri temi ma io qui non devo parlare degli altri temi basterebbe che citassi l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze sociale quel paradigma che è stato dominante a livello mondiale per due secoli che ha avuto tutte le catedre tutti i dipartimenti tutti i soldi per ricerca non è stato capace di affrontare il problema dell'aumento delle diseguaglianze e quindi ecco perché oggi si assiste ad una ripresa di interesse nei confronti del paradigma dell'economia civile e allora tornando al nostro punto la domanda è perché l'economia civile offre una prospettiva cosa che invece non ci viene offerta dall'economia politica la risposta è questa che sono diversi gli assunti fondamentali dei due paradigmi nota a piedi pagina la parola paradigma è una parola greca paradigma in greco vuol dire sguardo il modo con cui uno osserva guarda la realtà e allora quali sono le differenze primo è di natura antropologica il paradigma dell'economia politica parte dall'assunto antropologico secondo cui omo omi lupus ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini è quello che tutti conoscono come la metafora dell'uomo economicus l'uomo economicus è uno che pensa al proprio interesse ed è razionale tutte le volte in cui devi operare delle scelte ma la razionalità è finalizzata al mantenimento del self interest il paradigma dell'economia civile parte da un altro assunto che dice omo omini natura amicus che vuol dire ogni uomo è per natura amico di un altro uomo capite com'è diverso allora provate a pensare se io parto dall'idea che gli altri siano dei lupi che si comportano da tali nei miei confronti potrò mai io farmi carico degli interessi delle generazioni future perché il problema ambientale è un problema di giustizia intergenerazionale giustizia intergenerazionale ma se io sono una persona autointeressata cosa me ne viene di preoccuparmi delle generazioni future che ancora non esistono provate a pensarci l'uomo economico dice questo il soggetto economico agisce per il proprio interesse le generazioni future ancora non ci sono perché quando si parla generazione future non si fa riferimento alla immediata generazione quella dei figli dei nipoti ma quelle successive e allora perché mai io dovrei rinunciare al mio interesse di oggi per fare l'interesse di soggetti che ancora non esistono ma se io parto dall'altro assunto secondo cui l'uomo è per natura amico di un altro uomo capite come cambia il discorso perché anche se io non li vedo quelli che occuperanno le generazioni future so che ci saranno e anche se non li vedo in volto so che loro sono parte della mia identità questo allora è la prima grande differenza tra i due paradigmi la seconda differenza è che per il paradigma dell'economia politica il fine dell'azione economica è la massimizzazione del bene totale per l'economia civile il fine invece è la massimizzazione del bene comune allora io dico sempre anche agli amici provate a chiedere a un economista anche in catele che differenza c'è tra bene totale bene comune molti o non sanno rispondere o dicono che più o meno la stessa cosa e allora basta e quando si notano questi livelli di ignoranza ti cascano le braccia perché il bene comune è un prodotto il bene totale è una somma come si chiama il bene totale il PIL il prodotto interno lordo sapete il reddito nazionale che è la somma dei redditi individuali il bene comune invece è il bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo ecco perché la dottrina sociale della chiesa su questo punto è fondamentale di tutti gli uomini non basta ma anche di tutto l'uomo perché nell'uomo tre sono le dimensioni c'è la dimensione materiale c'è la dimensione relazionale e c'è la dimensione spirituale allora la economia politica non si preoccupa della dimensione relazionale e neanche della dimensione spirituale spirituale non vuol dire religiosa poi uno se ha una fede religiosa ne dà una particolare interpretazione per l'economista civile quando pensa a persona umana pensa a una persona nella quale le tre dimensioni materiale relazionale spirituale devono procedere all'unisono devono procedere di comune accordo e allora è evidente che se io rimango dentro il paradigma dell'economia politica come potrò mai occuparmi dell'ambiente l'ambiente la natura è qualcosa che non mi riguarda e quindi se posso sfruttarla mettendola sotto i miei piedi deforestando inquinando pensate alla plastica la desertificazione la acidificazione delle acque marine eccetera diventano possibili perché la natura deve essere al mio servizio se invece coltivo la prospettiva del bene comune questo non è ecco allora è arrivando perché devo terminare in cinque minuti perché così abbiamo tempo per la discussione mi è stato detto di parlare trenta minuti e io sempre rispetto perché è giusto rispettare la regola perché vuol dire rispettare la persona o le persone che mi hanno dato la regola dicevo capite allora perché se vogliamo affrontare con serietà il problema che qui ci vede riuniti il problema cioè della sostenibilità ambientale dobbiamo cambiare gli occhiali cioè dobbiamo cambiare lo sguardo sulla realtà non possiamo pensare di trovare la soluzione rimanendo dentro quell'altro paradigma ci hanno provato tanti studiosi di economia bravi tecnicamente ho citato soltanto Pigou ho citato Cause ho citato solo potrei citarne tanti altri ma come la storia i fatti ci indicano non hanno ottenuto niente la situazione si è semplicemente aggravata ecco perché in questo momento storico in cui la pandemia ci ha come dire è uno stress test come è stato detto un test di stress e ci ha obbligato a vedere la realtà con degli occhi nuovi e allora proprio in questa situazione che forse si danno le condizioni propizie perché si possa fare questo salto perché allora imboccare la cosiddetta green economy diventa una cosa quasi insomma da bambini perché la soluzione tecnica lo sappiamo gli scienziati i tecnologi ce lo insegnano pensate all'economia circolare sappiamo come si fa non è che ci manchi la conoscenza come qualcuno pensa ci manca la volontà di farlo e perché ci manca la volontà perché siamo ancora legati a quel concetto di possessivismo individualistico che ci porta a pensare che vanno fatte le cose solo per il proprio interesse personale se non ci libereremo fin tanto che non ci libereremo di questo possessivismo individualistico non ci sarà nulla da fare ed è questa la ragione per cui come è stato ricordato l'enciclica laudato si è oggi un punto di riferimento a livello mondiale e nessuno osa criticarla perché sa che è vero quando il Papa dice questione ambientale e questione sociale sono le due facce della stessa medaglia e devono essere affrontate e risolte assieme non prima l'una poi l'altro viceversa dice esattamente e esprime in parole diverse il concetto di bene comune cioè bisogna che le tre dimensioni dell'umano vengano tenute in simultaneo equilibrio eccetera ultima battuta è questa ragionare e pensare in questi termini è utopia no che non è utopia perché si può realesare quello che dobbiamo fare è di cambiare quello che gli inglesi chiamano il mindset cioè la nostra mentalità perché ripeto se le cose vanno male non è che perché ci mancano le risorse perché non sappiamo come tecnicamente fare ma perché ci manca il cuore dove col cuore intendo dire ci manca quella motivazione interiore che ci fa vedere che è possibile un mondo nuovo dove il principio di fraternità può trovare concreta applicazione quando Genovesi scrive homo homi natura amicus cioè ogni uomo è per natura amico di un altro uomo non fa altro che dire con parole diverse il concetto di fraternità e io devo riconoscere che tu io e te abbiamo qualcosa in comune perché solo così possiamo chiamarci fratelli come faccio io a chiamare fratello uno se non ammetto che c'è un'origine comune ecco perché ritengo che i tempi siano maturi per tentare un'operazione di questo tipo grazie mille professore Zamagni per questa esposizione sicuramente ricco di elementi ricco di spunti che ci daranno adesso occasione per sicuramente un bellissimo dibattito vorrei solo qui mettere nella telecamera l'ipo da lui presentato nell'anno scorso sulla responsabilità dentro il quale troviamo anche un capitolo esplicitamente sull'ambiente ma anche su molte altre tematiche tra l'altro anche intelligenza artificiale vedo già le prime domande che magari adesso inizio a leggere poi c'è anche Alessandro Simonetti che modera insieme a me questo dibattito e leggerà poi anche altre domande di quelle che arrivano da parte vostra ancora da parte nostra l'incoraggiamento a voi di formulare delle domande l'attuale crisi chiede Antonio Cartolano il presidente dell'ACLI in Ticino ha favorito l'attuazione di un'economia civile che tiene conto del vincolo sociale per promuovere la distribuzione della ricchezza partendo dai beni relazionali cioè è una domanda l'attuale crisi ha favorito l'attuazione di una tale economia civile? Forse è bene che raggruppiamo tre o quattro lavori infatti infatti c'è subito una seconda di Claudio Walter se si tassa chi inquina utilizzando i proventi a favore delle aziende virtuose non risolve il problema ma inesca un circolo virtuoso che dovrebbe migliorare il sistema chi inquina dovrebbe sparire a favore di chi è sostenibile cosa ne pensa? Bene allora anzitutto grazie per queste domande allora la prima Antonio è evidente che la distribuzione del reddito e della ricchezza sono diverse perché non c'è solo la distribuzione del reddito ma anche delle ricchezze la ricchezza è una categoria di stock il reddito è una categoria di flusso come si dice in economia è andata aumentando negli ultimi 40 anni in una misura mai vista in precedenza ovviamente sappiamo come mai questo è accaduto perché globalizzazione da un lato e rivoluzione del digitale delle tecnologie del digitale dall'altro hanno esaltato la capacità di estrarre valore e quindi profitto da parte di chi come si dice in gergo arriva per primo pensate a quello che è successo con l'high tech le 5 imprese tutte localizzate in california dall'high tech come google apple amazon eccetera oggi hanno una capitalizzazione di borse del 40% della borsa americana di wall street quindi capite che hanno un potere di monopolio se loro volessero provocare supponiamo una crisi finanziaria potrebbero farlo non lo faranno perché non è nel loro interesse allora voi capite che tutto questo è stato possibile perché con il fenomeno della globalizzazione e cioè l'abbattimento ai vincoli di circolazione di beni e servizi l'impresa che per prima arriva che per prima arriva a inventare l'ipod e poi il resto riesce a ottenere profitti in misura inimmaginabile nel passato perché tu puoi vendere nell'arco di pochi mesi alcuni miliardi di la popolazione mondiale di 7 miliardi e mezzo oggi capite subito un altro esempio pensate al vaccino contro il coronavirus l'impresa che riuscirà io spero che non si arrivi a questo alla brevettabilità perché sarebbe un disastro ma l'impresa che riuscisse a brevettare il vaccino diventerebbe iper straricca perché ne venderebbe subito 4-5 miliardi e voi capite quello che questo comporta e così via quindi è evidente che queste cose bisognava saperle esante inutile meravigliarsi perché se io liberalizzo il movimento dei capitali il movimento del lavoro il movimento di tutti e dall'altro utilizzo le nuove strumentazioni della rivoluzione digitale e tutti ormai sappiamo di che si tratta io vengo a conferire a chi arriva per primo anche per merito suo ma il punto è se tu hai merito è giusto che deve avere un riconoscimento anche termini di profitto ma non un riconoscimento così grande come sta avvenendo altro esempio voi sapete cos'è il CEO pay ratio CEO vuol dire chief executive officers sarebbero gli amministratori delegati il pay ratio è il rapporto dei salariali il rapporto tra quanto prende il numero uno dell'impresa e il reddito medio di coloro che lavorano in quell'impresa ebbene oggi parecchie corporation americane questo rapporto è di mille che vuol dire il numero uno prende mille volte di più del reddito medio ora uno dice ma qual è il razionale qual è il senso non ha senso e chi afferma il contrario è un lazzarone perché lo sa se uno ha studiato teoria economica sa che non c'è perché la teoria economica lega la remunerazione alla produttività marginale ma uno che prende mille volte di più non può dimostrare di avere una produttività marginale mille volte superiore questo avviene perché le posizioni di rendita hanno sostituito le posizioni di profitto e così via con tanti altri esempi ecco allora perché oggi non è più sufficiente per riequilibrare la distribuzione della ricchezza intervenire con i mezzi tradizionali non basta più perché le distanze sono talmente alte e soprattutto il potere di oligopolio di pochi da di fatto impedire che questo avvenga perché altrimenti si sarebbe fatto l'altra domanda di Claudio invece lui dice riferendosi probabilmente al teorema di Coase dice se noi facciamo pagare chi inquina e col ricavato lo diamo alle altre certo questa è la logica di Coase ma questa è una logica perversa che non ha prodotto primo perché ma perché se l'impresa che inquina e riesce a fare profitti pari a 100 inquinando e lo Stato gli fa pagare una multa anche di 20 30 rimane lo stesso sul mercato perché nel resto non è sostante a meno che la multa sia di livello tale da costringere l'impresa alla chiusura ma questo è non ammesso dai codici dai codici di tutti i paesi capite questo è il punto che la tassazione non può per quanto elevata impedire la sopravvivenza dell'impresa quindi è chiaro che l'impresa paga la tassa continua a inquinare distrugge l'ambiente e quindi con i profitti anche inferiori che fa riesce ovviamente ad agire con le pressioni di vario tipo sul governo ma guardate quello che avviene anche in Europa io non so perché la gente non ragiona in questi termini adesso sembra che la nuova commissaria dell'Unione Europea che è molto tedesca molto tragora riesce ma le imprese straniere che vengono in Europa si rifiutano di pagare le tasse dico ma vi rendete conto e allora come si fa a pensare di equilibrare le cose su questo problema e poi rimane sempre il problema di principio il problema di principio non è che tu fai perché inquinare è fare il male allora tu non puoi pensare che facendo il male di metterti a posto pagando questo è un principio che chi ha studiato etica qualunque di qualunque diciamo teoria etica ti dice che non è ammissibile che è quello che diceva già il fine non giustifichi i mezzi questo è il punto cioè in altre parole oltre alla inefficacia pratica rimane una questione di principio perché è come dire io legalizzo il male facendoti pagare e questo è un'idea devastante perché poi dalla questione ambientale si può trasferire anche ad altre questioni quali il commercio degli organi e voi sapete che oggi c'è un commercio degli organi umani che è fiorentissimo e i bambini si espiantano i reni le corne cuore eccetera per impiantarlo ad altri e l'argomento è questo diciamo ma io lo pago pago il genitore che consente che il figlio venga ovviamente ucciso per portare via gli organi che verranno trapiantati ad altri e voi sapete che noi sappiamo dove sono le cliniche in giro per il mondo dove fanno queste operazioni e qualcuno dice perché perché se quella famiglia è molto povera queste diciamo organizzazioni pagano e quindi se pagano e pagano supponiamo un prezzo buono è lecito dico vogliamo arrivare a questo punto ovviamente uno è libero anche di sostenere però deve avere il coraggio di dirlo in pubblico devi dire io sostengo questa linea se lo dicessero in pubblico io so già quello che succederebbe che ci sarebbe una rivolta popolare ecco perché c'è mala fede perché non si ha il coraggio di dire le cose alle quali si crede e questo non può essere tollerato mentre si deve accettare qualsiasi opinione purché venga espressa nella Agora Agora era la piazza dell'antica Grecia allora la gente sa come regolarsi altrimenti si fa solo manipolazione dell'idea altre domande? allora iniziamo con la domanda di Maria Luce Parodi che è più di carattere diciamo politico poi una di carattere tecnico e poi anche di uno sui sistemi economici di Remigioratti poi c'è anche Stefano Davichi Bellini dell'Associazione degli Imprenditori Maria Luce Parodi chiede professore Zamagni lei vede oggettivamente paesi meglio posizionati di altri per questa rivoluzione nel mindset verso il concetto di benessere comune e nel caso potrebbe dipendere da una concezione più avanzata del rapporto tra pubblico e privato questa è la domanda di Maria Luisa Parodi poi c'è Marco Fontoni che Papa Francesco nella Laudato si dice uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso fine la citazione oggi siamo pronti ad uno sguardo sulla tecnologia che sta per il bene comune questa è una domanda a un provocatore evidentemente poi di Remigioratti che era professor di economia a Lugano quindi chiede da collega per fare il salto di paradigma occorre cambiare le regole del gioco in questo ambito teoretico troviamo la New Institutional Economics che a sua volta rinnova la Old Institutional Economics dell'Ottocento crede che questo approccio vada nella giusta direzione e sia sufficiente per attuare un'economia civile Maria Luisa dice se ci sono paesi che sono più avanti lungo la strada di cui abbiamo fatto parola e in particolare rapporto pubblico privato ecco grazie perché la domanda mi permette di chiarire un punto che nella mia esposizione precedente non ho avuto modo di chiarire noi siamo abituati ancora a pensare al modello di ordine sociale cioè come si organizzano le nostre società nei termini della dicotomia pubblico privato una cosa è o pubblica o è privata una proprietà è o pubblica o privata ma questo è un errore gravissimo della nostra cultura perché non è mai stato così in passato basta prendere il codice giustinaneo il codice giustiniano di tanti secoli fa già allora si distinguevano tre forme di proprietà pubblico privato comune pensiamo alla scuola di pensiero francescana i francescani hanno avuto questo grande merito di far capire che ci sono cose di proprietà comune che servono esattamente a risolvere problemi che né la logica pubblicistica né la logica privatistica possono fare infatti uno dei grandi meriti della laudato sì è quello di aver proclamato che l'ambiente è un bene comune globale non è un bene pubblico e lo so che molti continuano a fare questi errori perché l'ambiente non è un bene pubblico perché se fosse un bene pubblico si sarebbe già risolto perché il bene pubblico vuol dire che affidiamo al governo o allo Stato o altre istituzioni il compito di e abbiamo visto il trattato di Parigi non è servito a niente perché gli Stati Uniti Trump una volta eletto lo ha disdettato e così via quindi il punto è che il bene e l'ambiente è un bene comune in quanto tale esige delle regole di governance che sono né privatistiche né pubblicistiche ma sono di tipo comunitario chi ha dato un contributo fondamentale in questo senso è la studiosa americana Eleanor Ostrom che nel 2009 ottenne il premio Nobel dell'economia perché lei non era un economista era una scienziata politica morì l'anno dopo ed è interessante che chi aveva chi ha capito l'argomento che io qui ho cercato brevemente non è stato un economista perché fosse stato un economista avrebbe detto le sciocchezze che io prima ho criticato lei essendo scienziata politica americana però la cosa interessante è che l'accademia di Norvegia abbia dato svedese abbia dato il premio Nobel dell'economia a una non economista che vuol dire che quanto sovvenuto dicendo rappresenta un segnale di svolta ecco allora dobbiamo abituarci a una organizzazione delle nostre società in cui ci sono tre gambe come in un tavolo lo Stato il mercato e la comunità e la comunità è indispensabile proprio per gestire i beni comuni infatti comune comunità hanno la stessa radice etimologica e allora si tratta di trovare i modi che ci sono basta prendere il libro famoso della Ostrom pubblicato nel 1990 intitolato Governing the Commons cioè il governo dei beni comuni per capire come il punto è che non lo si vuole fare il punto è che non lo si insegna nelle università si tengono i giovani nell'ignoranza e quindi la gente cresce si laurea e pensa che si debba andare o nella soluzione privatistica o quella pubblicistica e sono tutte e due fallimentari l'altra invece domanda la seconda era se lo sguardo di cui ho parlato si applica anche alla tecnologia agli avanzamenti della tecnoscienza ma è chiaro qual è oggi a livello mondiale il dibattito in corso è tra due impostazioni molto diverse l'una è quella del progetto transumanista l'altra è quella del progetto neo-umanista dobbiamo decidere da che parte si sta non si può stare in mezzo il progetto transumanista trans in latino vuol dire oltre ha la sua roccaforte in California vicino a Los Angeles dove è stata fondata 13 anni fa la University of Singularity l'università della singolarità qual è l'idea del progetto transumanista quello di andare oltre l'uomo Kurzweil che è il capo professore molto bravo molto bravo dice entro il 2050 non ci sarà più bisogno dell'essere umano nel senso che non sarà vivrà però non sarà più decisivo perché perché la nuova intelligenza artificiale tutte le nuove diavolerie chiamiamole così saranno in grado di fare di più e meglio dell'uomo e ovviamente per chi ha una fede religiosa questo ha un risvolto particolare che è quello di arrivare a dimostrare che non c'è bisogno di Dio cioè il progetto transumanista non è contro Dio come l'ateismo no ma loro dico Dio è irrilevante può anche esistere però non serve perché ormai l'avanzamento è tale per cui si può fare meno di Dio il progetto invece neo-umanista ha la sua roccaforte in Europa in Svizzera è molto presente in diversi adesso non so a Canton Ticino ma da Ginevra a Zurivo eccetera o a Porti e ci sono molti che studiano che invece dicono noi siamo a favore dell'avanzamento del progresso tecnico-scientifico ma deve essere sempre al servizio dell'uomo non può essere sostitutivo dell'uomo cioè il progresso tecnico-scientifico deve enhance si dice in inglese cioè migliorare le capacità non sostituirlo e quindi capite subito l'implicazione ci vuole una algoretica cioè l'etica degli algoritmi che è una nuova branca filosofica che si studia in filosofia morale che è nata pochi anni fa cioè si tratta di definire quali regole imporre all'avanzamento delle nuove tecnologie eccetera ecco allora che su questo bisogna aprire un dibattito in questi ultimi tempi un paio d'anni in Europa insomma ci si è svegliati perché fino a prima era dominante quello trasumanista anche perché il progetto trasumanista ha tanti soldi riceve tanti finanziamenti però noi europei se fossimo un po' più intelligenti e astuti riusciremmo a contrastare perché a noi non mancano le intelligenze e non mancano i fondamenti però siamo finora andati a rimorchio degli altri perché il progetto trasumanista è coltivato in California e dove? In Cina notate che questo vi aiuta a capire il conflitto fra Stati Uniti e Cina tutti pensano che il conflitto sia legato import-export il conflitto è legato proprio a questo che la Cina vuole arrivare prima degli americani a quello che ho chiamato andare oltre l'uomo e quindi ecco perché si contende se noi europei riuscissimo invece in fretta a sviluppare è un motivo di ritenere che qualcosa nel prossimo futuro avverrà perché ripeto a noi non mancano i cervelli e persone pensate l'ultima domanda era della collega ha ragione bisogna cambiare le regole del gioco è verissimo perché quello economico è un gioco come il gioco del calcio all'inizio sono state messe delle regole del gioco e tutti giocano rispettando le regole ora qual è il problema che le regole del gioco economico di oggi sono ancora quelle di prima basicamente mentre come è stato ricordato il mondo è cambiato ecco perché bisogna adeguarlo facciamo subito un esempio per intenderci perché non istituiamo una OMA OMA vuol dire organizzazione mondiale dell'ambiente noi abbiamo l'organizzazione mondiale della sanità l'organizzazione mondiale del commercio e perché non facciamo l'organizzazione mondiale dell'ambiente basterebbe questo perché con un'organizzazione così Trump non avrebbe potuto l'anno scorso disdettare l'accordo di Parigi perché voi provate a violare le regole del commercio internazionale vi arriva subito una multa in ambito ambientale ogni paese fa quello che gli pare a seconda delle convenienze del momento e questo è un esempio ecco a Bretton Woods nel 1944 non si parlava di questo d'accordo oggi se ne parla allora diamo vita a un'organizzazione mondiale dell'ambiente e la stessa cosa vale per tanti altri esempi e ad avere tempo si potrebbero citare quindi il nostro amico il nostro collega ha ragione bisogna cambiare ma per cambiare le regole del gioco non è un'operazione solo tecnica c'è anche quello ma bisogna avere l'orientamento di fondo cioè alla domanda tu le cambi per che cosa devi sapere indicare il fine ultimo verso il quale vuoi muoverti e quindi in forza di quel fine cambiare le regole del gioco e il fine non può che essere il bene comune globale e quando si parla di bene comune globale guardate che tutti più o meno lo capiscono non c'è bisogno di essere troppo specialisti perché nel cuore di ciascuno di noi c'è questa idea che una società in cui ognuno pensa solo per se stesso è una società che è destinata a scomparire e in secondo luogo ad essere infelice sono molto contento che ha menzionato la von der Leyen non perché è tedesca ma perché come presidente della commissione europea proprio l'anno scorso ha messo in atto il new green deal dell'Europa e adesso molto significativamente molti dicono ormai dopo la crisi non ci sono più i soldi spostiamo il new green deal e togliamo indietro questo sarebbe il segnale sbagliato e per fortuna la von der Leyen ha già sottolineato come importante che si andrà avanti sui fini proposti nel new green deal e la stessa von der Leyen con la commissione europea hanno messo in atto proprio dicembre 2019 il catalogo etico per l'intelligenza artificiale con il quale l'Europa vuole posizionarsi non soltanto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale ma riconosce anche la sua vocazione di portarla in una direzione non di transumanesimo ma appunto di riconnessione con un nuovo umanesimo quindi con delle linee etiche forti per la convivenza con una forma di intelligenza artificiale cioè robot sistemi intelligenti per gli sviluppatori e anche per progettare una società nella quale convivremo con l'intelligenza artificiale e lì l'Europa saprà dare un impatto fondamentale e credo che questi siano proprio i due temi sui quali posizionarsi per l'Europa in futuro sia ambiente e intelligenza artificiale quindi grazie mille questo riferimento allora facciamo le ultime Marcos perché poi facciamo subito le ultime tre abbiamo le ultime tre domande che hanno due temi ossia impresa terzo settore e un po' un attoraggiamento per il Ticino quindi un po' un suo tema di cuore e parlando al nostro cuore per dire in Ticino il primo è Stefano De Vecchi Bellini presidente dell'Unione Cristiana Impreditori Ticinesi fondatosi proprio un anno fa sul modello un po' De Lucid italiano che abbiamo messo in vita più o meno proprio un anno fa giugno dell'anno scorso il terzo settore chiede lui nel canton Ticino come anche nella vita vicina a Italia ha un ruolo fondamentale e meritevole sostituendo a volte lo Stato che non sempre arriva dove il cuore vorrebbe che ispirazione potrebbe dare ai molteplici attori del terzo settore per costruire un proficuo tavolo di lavoro con sindaci impreditori e politici quindi la domanda sul terzo settore è un po' in riferimento al Ticino poi abbiamo Laura Francioli che chiede dal suo punto di vista quale può o dovrebbe essere il ruolo del terzo settore nel favorire un cambiamento di mindset quindi sempre sul terzo settore grazie e Nina Mattioli ultimissima domanda professore mi sembra dice Nina che a livello mondiale non si sia ancora capito quello che lei oggi ha spiegato in modo esemplare quello che vedo è solo una corsa al vaccino e la preoccupazione che il sistema sanitario regga oltre al nostro entusiasmante incontro di oggi bisogna sensibilizzare in continuazione ed attuare questo tema di economia è piuttosto una presa di posizione ma magari una piccola sua replica grazie professore grazie molte le domande le prime tre sono fra loro collegate quindi risponderò ad esse congiuntamente intanto saluto Stefano Presidente Lutti ma anche Presidente dell'UCI di Milano e quindi gli faccio tutti i migliori auguri lui potrà essere il vostro grande ambasciatore o meglio ponte di collegamento tra il Ticino e la Lombardia e Milano in particolare allora quando pochi minuti fa parlavo del modello di ordine sociale tripolare nel quale cioè accanto allo Stato al mercato deve trovare spazio anche in ambito economico della comunità facevo proprio riferimento agli enti di terzo settore perché perché è chiaro che se voi parlate ad un sociologo di comunità è come invitarlo a nozze perché lui vi dirà beh è ovvio la comunità bla 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 eccetera alla novità di questo diciamo approccio per l'economia civile è che la comunità deve svolgere un ruolo anche in ambito economico infatti questa è la novità che tu Marcos hai messo in evidenza nella tua introduzione della Caritas in Veritate che è la prima enciclica di dottrina sociale della Chiesa che dice guardate che la comunità e cioè i corpi intermedi della società non sono soltanto qualcosa di rilevante dal punto di vista psicologico culturale sociologico che è sempre stato ma anche dal punto di vista economico ecco allora qual è il punto che per mettere in pratica questa idea che è un'idea fondamentale bisogna applicare il principio di sussidiarietà circolare qui una parola di chiarimento è necessaria la sussidiarietà circolare è un principio di organizzazione sociale che nasce alla fine del 1200 in terra di Toscana e di Umbria magari a qualcuno da fastidio perché nasce in ambito cattolico perché molti pensano che la sussidiarietà sia legata ai contributi del 1615 di Ugo Grozio giurista famoso e di Althusius che è filosofo tedesco loro erano protestanti e bravissimi però si dimentica che quasi tre secoli e mezzo prima Bonaventura da Bagno Regio il secondo San Francesco aveva già sviluppato il concetto e qual è l'idea della sussidiarietà circolare quella per cui l'ente pubblico lo Stato il mercato per significare il mondo di tutte le imprese e la società civile organizzata cioè il terzo settore questi tre enti devono interagire fra di loro in maniera sistematica non una volta ogni tanto per decidere sulle priorità secondo reperire le risorse terzo definire i modi di gestione ottimali questo è il punto e ci arriveremo io sono sicuro non so dire quanti anni ci vorranno voi siete però in Svizzera e in Cantonticino molto più avanti di noi e si capisce la vostra la vostra storia ne parla perché lo capite istintivamente ma da noi in Italia è una fatica e anche in Francia è una fatica da matti perché l'idea è che sia lo Stato poi lo Stato cerca le collaborazioni però lì non è la sussidiarietà e anche in questa pandemia lo Stato ha chiesto poi aiuto al volontariato però ha deciso lui ma non va bene così perché se tu vuoi coinvolgere qualcuno devi anche farlo partecipare a quel qualcuno nel momento in cui si prendono le decisioni importanti ecco il punto perché è la stessa cosa l'impresa ma le imprese di oggi hanno la volontà di cooperare con gli altri perché fino ad ora l'impresa è sempre stata vista come un soggetto che deve massimizzare profitti e tutt'al più dedicarsi a un po' di filantropia quella che si chiama corporate la filantropia ma chi l'ha detto questa è la vecchia concezione dell'economia politica l'economia civile non ha mai pensato così perché l'umanesimo dove è nato in Toscana quando? nel 1400 e secondo voi l'umanesimo chi l'ha fatto come dire nascere e sviluppare? gli imprenditori che non si chiamavano così ma erano gli imprenditori dell'epoca pensate coluccio salutati che ha scritto un libro bellissimo quindi diceva noi imprenditori mica dobbiamo pensare soltanto a fare la nostra roba noi dobbiamo pensare a fare bella la città a creare l'ospedale a fare questo e quest'altro e così via quindi ecco allora qual è il punto noi dobbiamo insistere perché voi direte ma perché allora in Europa eh sì perché di sussidiarietà ci sono tre versioni non una la sussidiarietà verticale la sussidiarietà orizzontale e quella circolare in Europa finora l'Unione Europea ha applicato quella verticale quella orizzontale ma non ancora quella circolare io spero che la nuova presidente della commissione voglia fare questo passo se lo farà otterrà tutti i meriti che vuole perché il segreto tutto lì però bisogna avere il coraggio di fare il passo ulteriore perché con la sussidiarietà orizzontale e verticale si ottiene qualcosa ma non molto non è sufficiente ecco allora qual è oggi lo spazio del terzo settore che non è più uno spazio residuale di tipo emergenziale ma diventa un elemento che concorrendo con gli altri va a definire le linee del cosiddetto bene qual'era l'ultima domanda era questa presa di posizione che Nina Mattioli dice che quello che vedo è solo una corsa al vaccino e la prepubazione globale che vuol dire non deve essere brevettabile allora qui un chiarimento ed obbligo è chiaro che per ottenere un vaccino ci vuole tempo e grossi investimenti di capitale e quindi è ovvio ed è giusto che chi ha fatto questi investimenti e ha messo il proprio know-how abbia oltre al rimborso dei costi una remunerazione o meglio un ritorno sul capitale questo va bene quello che si dice è che non deve brevettarlo perché se io lo brevetto conferisco un potere di monopolio a chi è arrivato per primo ma allora vuol dire che tu non puoi più considerare il vaccino un bene comune è logico d'altra parte un vaccino per funzionare presuppone l'universalità perché io non posso vaccinare tizio non caio perché se io vaccino tizio lui è protetto caio non è vaccinato e va a contagiare tutti gli altri quindi è nell'interesse comune che tutti si vaccinano ma perché tutti si vaccinano bisogna che non venga attribuito un potere di monopolio a coloro i quali per primi giungono a individuare la formula corretta però questo non significa non riconoscere un ritorno un ritorno vuol dire di termini di profitto ma non conferire quella brevettabilità perché capito un brevetto dura 15 20 anni o 30 anni e dico io non posso di fronte ad un prodotto salva vita farlo dipendere dalle regole di funzionamento di mercato ma come si fa a non capire queste cose di fronte a dei diritti umani fondamentali non posso dire le regole ma perché le regole del mercato non sono scritte sulla pietra non sono come le tavole di Mosè sono fatte per certi scopi e quindi la brevettabilità va benissimo per i beni privati nulla da dire ma non per i beni comuni e per certi beni pubblici ma non per i beni comuni che dovendo soddisfare il criterio della universalità non potrebbero essere erogati a tutti in condizioni di possibilità concreta bene io direi che a questo punto vi devo lasciare perché adesso è a mezzo ho un altro collegamento io sono stato molto contento di stare con voi e vi auguro veramente di continuare sulla strada che avete intrapresa e la vostra associazione è veramente importante perché chi oggi produce e diffonde cultura ha merito una volta era più importante forse produrre cose oggi questo non che non sia importante ma è meno importante che non produrre raddrizzare le idee storte e soprattutto alimentare il senso di speranza perché guai a dimenticare la speranza che è quella virtù bambina come la chiamava Pegui che trascina le altre due cioè la fede e la carità senza la speranza anche le altre due le due sorelle maggiori rischiano di affievolirsi allora con questo augurio io vi saluto state bene in gioia nonostante tutto la prossima volta vengo con voi fisicamente e così dopo ci divertiamo di più arrivederci grazie mille grazie mille professore mettiamo in parola Alessandro di tu qualcosa volevo ringraziare veramente di qua il professor Zamagni perché in un tempo ristretto e in maniera sintetica veramente ci ha dato quegli elementi guida che ci permetteranno poi di affrontare da un lato l'ultima serata seminario che pensiamo di poter fare fisicamente presso l'università della Svizzera Italiana col professor Joseph Dice è stato professore di economia politica è presidente della confederazione su quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti dell'economia sociale di mercato concetto diciamo elaborato negli anni 20-30 poi ripreso nell'economia tedesca ma soprattutto credo con questi spunti sul terzo settore rispettivamente sull'importanza della comunità e anche della sussidiarietà il secondo anno di questo ciclo dedicato agli approcci quindi sia alle best practices delle aziende quindi mostrare concretamente come le imprese contribuiscono già oggi in maniera responsabile e anche vera a questo nuovo approccio economico rispettivamente appunto l'economia cioè la società civile quindi anche il terzo settore che pure esso contribuisce e già adesso applica attivamente queste nuove visioni e poi ci predispone ulteriormente verso il terzo anno che è quello invece delle nuove politiche che evidentemente insieme a quello che è il ruolo delle istituzioni rispettivamente della società civile e delle imprese anche lo Stato nel giusto ruolo e nella giusta proporzione deve poter dare come abbiamo visto anche a livello europeo un segnale in questo anno quindi grazie mille professore ringrazio grazie a voi evidentemente tutti i partecipanti tutti i nostri amici che ci stanno salendo e ci hanno seguito ricordo che questa questa sessione questo webinar è stato registrato che verrà messo a disposizione delle associazioni partner rispettivamente verrà pubblicato anche su LinkedIn e su YouTube grazie a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici